Basta pronti! Sui primi anche Marcos Girl, Barbareschi, Cavalcanti, Maccolivia, King of Paradise, Purpation, Antilia e Rosa Bengala all'esterno che ritorna con Ticolendi in vantaggio su High Harmony, Subadar, Cavalcanti, Rosa Bengala, Maccolivia, Marcos Girl. King of Paradise, Ticolendi, High Harmony, sempre questi allungano Ticolendi, Subadar, High Harmony, Rosa Bengala, Cavalcanti, King of Paradise, Maccolivia, Purpation, Vioz. Quando Ticolendi sta entrando addirittura in vantaggio su High Harmony, Subadar, Ticolendi, Subadar, High Harmony, Cavalcanti, King of Paradise, Rosa Bengala, Purpation. Ticolendi che scappa da High Harmony e Subadar, poi da King of Paradise, Cavalcanti al lago da Purpation e Antilia, con High Harmony che attacca a fondo Ticolendi. Poi Purpation in mezzo alla pista, con High Harmony contro Antilia e Purpation, lottano questi, con High Harmony in vantaggio, High Harmony su Antilia, High Harmony su Antilia, High Harmony Antilia. Ticolendi, Ticolendi, Purpation, potrebbe essere questa, sono vicini però sul palo, sono vicini ma potrebbero essere anche nell'ordine. Vediamo un po', 10, 3, 1, 9, per oggi è tutto.